Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nato a Milano nel 1851 e morto nella stessa città nel 1920, Vittorio Grubisi spese tutta la propria carriera e la propria vita nella promozione dell'arte lombarda, scapigata prima e divisionista poi, i centri compiti nazionali che sui mercati e nei circoli artistici europei con cui egli avevano intrecciato fruttuose relazioni. Una parte sostanziale del materiale fotografico di Vittorio Grubisi è conservata presso l'archivio del Novecento del Marte, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Taranto Rovereto, dove è costruito il fondo Grubisi Benvenuti, che contiene anche l'archivio e la biblioteca di Grubisi, insieme al vasto scambio epistolare come il Venuto Benvenuti, che fu allievo e custode della memoria di Grubisi, nonché suo erede universale, sebbene non gli fosse imparentato in alcun modo. Tra le carte, le lettere e le fotografie sciolte che sono qui conservate si trovano anche cinque albumi fotografici, che possono essere assimilati tra loro per struttura. Sono volumi relegati in modo prezioso ed elegante, dedicati ciascuno ad un singolo artista. Essi contengono riproduzioni fotografiche o fotomeccaniche di dipinti e disegni e sono per lo più privi di note tipografiche. Uno di questi è dedicato a Giovanni Segantini ed è intitolato Brianza 1884. Due invece riguardano Tranquillo Cremona, mentre gli ultimi due sono dedicati allo stesso Vittore Grubisi. A questi albi del Museo di Rovereto ne vanno aggiunti altri che sono in diverse località. Una copia dell'album Segantini, Brianza 1884, è conservato al Museo Segantini di St. Moritz, appunto. Mentre un'altra copia si trova nella biblioteca dell'Accademia Librera. Inoltre, quest'ultima biblioteca e la biblioteca statale di Cremona conservano una copia ciascuno dell'album dedicato a Tranquillo Cremona. Questi volumi sono in buona parte in occhio agli studiosi e sono stati per lo più usati come documentazione per individuare gli interessi di Grubisi. In sostanza, quindi, abbiamo tre gruppi di albi fotografici dedicati a due dei più importanti artisti nella vita di Vittore Grubisi, ma anche un gruppo, l'ultimo, dedicato a Vittore stesso. Sono stati realizzati con delle varianti nella rilegatura, nella selezione e nell'ordine delle immagini, cosa che ci impedisce di parlare di vere e proprie edizioni. Tuttavia, la sostanziale omogeneità dei tre gruppi ci permette di pensare a questi albi come a un corpus disperso e in parte ritrovato. Valutando questi oggetti nel loro insieme, quindi, sono due le domande che si pongono come più urgenti. La prima è, quale è la loro origine, ovvero quale idea si c'è dietro la loro realizzazione? La seconda, invece, è a quale scopo e con che funzione questi albi sono stati realizzati? e questo mio intervento vorrebbe provare a rispondere o a proporre delle risposte. Per provare a rispondere a queste domande, quindi, è necessario tornare al profilo di Vittore Grubisi e al contesto della sua attività. Gli sorti della sua carriera sono poco chiari e si collocano a Londra, nel 1870, quando Grubisi lavorava, appena ventenne, come intermediario per un antiquario milanese, Pietronessi, che trattava principalmente artisti della generazione scapigliata, prima Tranquillo Cremona e Daniele Aranzoni. Un lavoro del genere all'estero diede la possibilità al Giovanni Vittore di scoprire un modo di trattare l'arte molto diverso da quanto facevano ancora gli antiquari italiani, più legati al modello erudito settecentesco. Nelle tre piazze più importanti d'Europa, ossia Londra, Parigi e l'Olanda tra Amsterdam e Laia, l'arte si commerciava con criteri moderni, sensibili agli interessi di un mercato composto principalmente dalla borghesia in ascesa, che cercava simboli della propria affermazione sociale da esibire nei salotti buoni. Un'impresa, più di ogni altra, era riuscita a plasmare il mercato europeo dell'arte contemporanea, ossia la Maison Gukil. La Maison Gukil fu fondata da Adolf Gukil e Henry Rittner, un editore tedesco con base a Dresda, nel 1829 a Parigi, come casa editrice specializzata in stampe di interpretazione di maestri antichi e in stampe d'arte. Combinando un'eccellente organizzazione d'impresa con lo sviluppo di nuove tecniche economiche di stampa e riproduzione, tra cui la fotografia a partire dagli anni 50 dell'Ottocento, la Maison Gukil si trasforma in un vero colosso della diffusione delle immagini d'arte. Si consideri che intorno alla metà dell'Ottocento in Francia ci si riferiva con il termine Gukilage o procedimento Gukil per indicare l'incisione a bulino, la più economica e la più rapida tra le tecniche di riproduzione prefotografica. Il meccanismo nella Maison si basava sulla commercializzazione simultanea sia di dipinti che di riproduzioni. Nella Galleria Parigina essi venivano esposti fianco a fianco. Venivano stipulati dei contratti con cui la Maison si garantiva l'esclusività dei diritti di riproduzione sulle opere, che venivano sempre comunque concessi insieme all'acquisto di un'opera in quanto considerati accessori alla stessa. In molti casi essi riuscivano a fruttare decine di volte il prezzo della vendita del quadro. La Maison cercava di sfruttare al massimo le potenzialità commerciali degli artisti che avevano le vendite migliori, legandoli a sé con dei contratti di esclusività e chiedendo loro o talvolta ad altri artisti della Galleria di ridipingere opere di particolare successo in copie di minori o maggiori dimensioni per avere a disposizione dei formati per tutti i tipi di tasche. In questo senso le riproduzioni fotografiche e fotomeccaniche rappresentavano oggetti ideali per una borghesia di minori possibilità economiche, visto che tra l'altro la ditta riusciva di mettere sul mercato quantità considerevoli di riproduzioni a basso costo. Dal 1867 l'impresa si era assicurata i diritti di sfruttamento per la Francia del Good Retire e in seguito nel 1873 aveva iniziato a impiegare in modo massiccio la fotoincisione. Questi procedimenti avevano molteplici vantaggi, innanzitutto riuscivano a combinare la fedeltà della fotografia con l'inalterabilità e l'alta qualità delle stampe e delle incisioni più antiche, insieme però a tirature molto elevate a costi contenuti. In questo modo la Maison Goupil si può dire che abbia traghettato la riproduzione d'arte in una fase industriale. Il modello commerciale di Goupil fu un tale successo che poco alla volta vennero aperte sedi in tutta Europa, a Londra, ad Amsterdam, a Laia, a Berlino, a Vienna, a Dresda e perfino negli Stati Uniti. La Maison quindi fu capace di sfruttare i vantaggi di due mercati paralleli, quello delle opere fatte di tela, di cornici, di strati di vernice, e accanto a questo riuscì a dominare anche il rimercato non meno remunerativo delle stampe e delle incisioni che riproducevano le opere stesse. Quello di Goupil divenne progressivamente il sistema che su scale diverse adottarono tutti i principali mercanti e gallerie d'Europa. Quando nel 1876 Vittorio Gruppi si decise di mettersi in proprio, aprendo con il fratello Alberto a Milano una galleria, era ben consapevole dei modelli commerciali europei e aveva rapporti diretti con gallerie e circoli artistici nel cuore del mercato europeo, come avendo commentato la mostra Vittorio Gruppi si è l'Europa alle radici del divisionismo nel 2005. Il primo gruppo di albi fotografici di cui vorrei parlare si colloca all'inizio della carriera autonoma di Vittorio Gruppi si come mercante. Si tratta degli albi dedicati a Tranquillo Cremona, uno dei maggiori esponenti della pittura scapiglietta lombarda. Pittore di grande talento, un conflitto aperto con l'accademia, Cremona divenne il martire romantico della scapigliatura milanese, per così dire, perché morì intossicato dalla biacca che usava per dipingere a soli 41 anni, perché era solito mescolare i colori invece che sulla tavolozza sul palmo della propria mano. A 50 anni dalla morte di Cremona, Luca Beltrami lo ricordava ancora come il campione, e cito Beltrami, di una scapigliatura che non aveva né pose né riuso della bohème, bensì la spontaneità di una sana ribellione a tutte le convenzionalità, a tutte le volgarità e deficienze di uomini e ostilità di istituzioni, per cui fra i soci e minori dell'accademia, che ancora allievo aveva già anorato, il Cremona non fu ritenuto degno di essere iscritto, quando da dieci anni aveva dipinto il Marco Polo davanti al Gran Can dei Tartari. Gruppis e Cremona si conoscevano sin dal 1871, ossia dei tempi in cui Gruppis si faceva da intermediario a Londra. Era stato proprio Gruppis che aveva spesso fatto acquisti di colori in Inghilterra per conto di Cremona, e del resto Cremona era l'artista che meglio si vendeva, insieme a Daniela Ranzoni, sul mercato internazionale. Era per Gruppis l'emblema dell'artista che vive per la propria arte e la persegue senza curarsi delle sue conseguenze. Nel 1920, in una lettera a Carlo Sacchi, pochi mesi prima di morire, Vittore scriveva ancora, e cito Gruppis, Tranquillo Cremona è stato il culto di tutta la mia vita, al di sopra di ogni altro dei molti grandi artisti che ho conosciuto, nei miei 15 anni in Europa e nella mia lunghissima successiva pratica dell'arte. Pensi infine che una larga serie di opere di Cremona da me posseduta, con la stessa insuperabile High Life, sono già in parte entrate e stanno per entrare al Castello Sforzesco, per omaggio non solo gratuito, ma anonimo alla collettività. Il desiderio di un pubblico riconoscimento al valore di questo grande pittore fu una costante nella vita di Gruppisi. Infatti, subito dopo la sua morte nel 1878, Vittore si impegnò intensamente per realizzare una mostra commemorativa dell'artista, raccogliendo opere dalle collezioni private e cercando il supporto dell'Accademia di Brera, con l'aiuto di Primo Levi e Luca Beltrami. L'Accademia però pose un rifiuto all'ultimo minuto, costringendo i teleorganizzatori a smuovere le loro conoscenze politiche e artistiche. Alla fine, la mostra si tenne a ridotto del Teatro della Scala, con la collaborazione del milieu artistico milanese in protesta contro l'istruzionismo accademico. In una lettera del 1911, Vittore Gruppisi ricorda che furono esposte oltre 200 opere, che nei tre mesi di apertura la mostra aveva un successo di pubblico enorme. Per l'occasione, Gruppisi si predicò perché fosse stampato un catalogo delle opere non illustrato da distribuire all'esposizione, dal quale però risulta un numero minore di opere esposte rispetto a quelle che anni dopo Gruppisi dirà di aver recuperato. Ma con un buon margine di certezza, possiamo dire che risale a questa occasione la realizzazione anche degli albi fotografici Tranquillo Cremona. Tre di questi album, i due di Roverietto e quello di Brera, sono rilegate in modo simile. Si tratta di volumi in formato verticale che misurano circa 20x32 cm. Sono rilegati in tela con applicazioni floreali in metallo brunito sia sulla costa che sul piatto, dove è anche presente il monogramma TC. Le copie contengono circa 75 riproduzioni di opere di Cremona, dipinti, disegni e corelli, con una selezione che varia leggermente a seconda della copia e alcune note stampate nella versione di Brera. Si evince da alcuni appunti manoscritti di Gruppisi che l'ideazione della rilegatura sui velveggio di Conconi, un artista melanese originalissimo, un odore di bohem, con interessi esotici ed un ingegno multiforme che spaziava dalla pittura all'architettura. Conconi, definito come qualcosa di esotico che è pievuto ad un tratto dal cielo in Lombardia, realizzò l'incisione intitolata Vita artistica di Tranquillo Cremona, datata 1879, che permette di circoscrivere il momento di realizzazione di questa iniziativa editoriale insieme ad alcune citazioni di un oggetto simile all'album nella stampa che aveva recensito la mostra della scala all'epoca. Le bellissime guarnizioni in ferro, come le chiama Gruppisi, che Conconi realizzò per gli albi, hanno un tocco essenzialmente deco e impreziosiscono questi oggetti, che sono dei prodotti inconsueti per il mercato editoriale. Per provare a capire quali collocazioni commerciali essi abbiano potuto avere, è necessario scorrere le pubblicazioni seguite alla morte di Tranquillo Cremona. Oltre al catalogo della mostra del 1878 al drutto della scala, Cremona viene citato soltanto in volumi e mostre collettive sulla pittura lombarda. Si deve aspettare il 1899 per avere una monografia illustrata di Giulio Pisa, dedicata esclusivamente all'artista Cremona. L'album di Gruppisi, quindi, colma una laguna editoriale a prendersi una nicchia tra i libri d'arte e il commercio delle riproduzioni delle opere. Mettendo insieme fotografie di decine di opere del maestro tanto amato in una cornice così preziosa, in un certo senso anticipa i coffee table books, così i libri d'arte da esposizione. Lascia che le immagini esprimano le capacità dell'artista e la sua innovatività, mentre affida alle riproduzioni il compito di diffondere e tramandare la memoria della potenza dell'arte di Cremona, appunto. E non sembra che in letteratura possano riscontrarsi molte altre attestazioni di oggetti di questo tipo. In qualche occasione si è pensato a questi albi come a cataloghi ragionati, ma questa definizione sembra eccessiva, perché scorrendo la selezione delle opere sembra che si siano soprattutto prese tra le proprietà di Gruppisi o di persone amiche. Non mancano i pezzi fondamentali come l'Edera o Marco Polo davanti al Gran Can dei Tartari, ma non c'è nessun ordine cronologico o presunzione di esaustività nella selezione delle immagini. Sono presentate quasi tutte le tecniche con cui Cremona si era espresso, ma sembra piuttosto che ordinare le opere sia un criterio visivo. Le immagini sono accostate una dopo l'altra per similitudine delle posi oppure del tema rappresentato. L'album, conservato alla biblioteca di Cremona, è arrivato in deposito con il fondo del pittore cremonese Antonio Rizzi, Giaglievo di Brera, rispetta questi criteri, ma si distingue perché le fotografie sono contenute in un album di un altro formato e di tutt'altra rilegatura. Non possiamo dire se si tratti di una risistemazione dovuta per esempio al deterioramento della rilegatura originale o se si tratti di una vera e propria riedizione, anche perché si deve considerare il fatto che nel fondo Gruppisi del Mart è conservato una ricevuta di vendita di un album Cremona del 1910. Con la stessa incisione e ritratto di Cremona, ad opera di Conconi con cui si apre l'album di Brera, Gruppisi realizzò una cosa ben più curiosa. Si tratta di un reliquiario che comprendeva appunto l'incisione dei fiori secchi, un piccolo disegno di Cremona e alcuni capelli presi dalla salma. Una cosa più particolare è che Gruppisi fece prima fotografare questo accrociage, dopodiché ne fece stampare numerose cartoline sul cui fronte è descritto e spiegato il contenuto dell'immagine, con tanto di titolo reliquiario. Un'invenzione del genere conferma l'idea che Gruppisi avesse una precisa strategia commemorativa, nella quale l'immagine fotografica e la riproduzione avevano un ruolo essenziale in quanto veicoli di notorietà. Come reliquiario, quindi, anche gli albi sono oggetti evocattivi, in grado di garantire continuità alla memoria di Cremona e di costituire un tributo al culto dell'artista morto. Poco dopo la morte di Cremona, Gruppisi mise in atto le proprie strategie di espansione commerciale, tornando a coltivare il campo delle relazioni europee. Nel 1880, infatti, si trasferì in Olanda, dove faceva base per recarsi spesso in Inghilterra e tornare di frequente a Milano. Intanto, assecondando quel che riteneva il proprio infallibile fiuto, aveva messo sotto contratto di entrenaggio vari artisti, il più importante dei quali era il pittore trentino Giovanni Segantini. In sostanza, questo contratto prevedeva di stipendiare il pittore ancora poco noto in cambio di un rapporto di esclusività. Questa prassi, sempre messa a punto dalla Maison Goupil, costituiva un grande investimento per una galleria piccola come quella di Gruppisi e non mancò di innescare tensioni tra i fratelli, che avrebbero poi portato ad una rottura insanabile. L'idea di Vittore era quella di allevare Giovanni talentuosi artisti, promuovendoli a livello europeo, fin tanto che essi poi avrebbero venduto tanto da ripagare il rischio di impresa iniziale. Nel caso di Segantini, artista di punta della sua scuderia, come amava definire la Vittore, qualche risultato arrivò dall'estero con due medaglie d'oro, ottenuta all'esposizione internazionale di Amsterdam nel 1883 e poi ad Anversa nel 1886. Gli albi del secondo gruppo si collocano proprio in questo periodo. Anche nel caso di questi albi, le versioni differiscono per quantità di immagini contenute e per rilegatura, ma la caratteristica comune e più interessante è il piatto della copertina. Si tratta di un rilevo in stucco policromo e bronzato, con buona probabilità eseguita in pronta, su cui è graffita la scritta Segantini-Brianza 1884, all'interno del quale sono raccolte riproduzioni fotomeccaniche dei dipinti realizzati da Segantini-Brianza fino a quel momento. L'album di Brera si presenta come una cartella contenente 21 tavole, mentre l'esemplare di Rovereto contiene 70 foto riadattate. L'anno sulla copertina ci fornisce delle indicazioni sulla data di realizzazione perché, come nel caso precedente, le tracce documentali sono invece molto scarse. Il 1884 fu un anno particolarmente importante per Segantini perché si concludeva il suo dializio con il pittore Emilio Longoni, con cui aveva condiviso di moro il lavoro in Brianza dal 1882 nella zona di Pusiano. D'altra parte, quel momento seguiva il primo vero riconoscimento delle capacità di Segantini, sul quale Vittorio aveva investito non appena uscito da Brera. Per Grubisi era necessario quindi impegnarsi ancora di più nella promozione del pittore per dimostrare soprattutto al fratello, che sopportava la pressione economica dell'operazione, che il criterio su cui si basava la loro attività di mercanti non fosse sbagliato, ovvero, e cito una lettera di Grubisi, di Vittorio e al fratello Alberto, che il commercio artistico si basa sulla personalità e non più sulla compravendita di quadri più o meno buoni. Con Brianza a 1884, all'idea dell'album Cremona si evolve in senso di ancora maggiore pregio. Ogni copia ha una preziosa apparisciante opera d'arte. La scelta di impiegare stampi fotomeccaniche è certamente legata al bisogno di garantire la massima qualità e fedeltà cromatica delle riproduzioni. Una preoccupazione costante per Segantini. Il pittore, che da ragazzo aveva lavorato nel laboratorio fotografico del fratello, conosceva i problemi di distorsione cromatica che ancora a quelle date i materiali fotografici ponevano. Nella corrispondenza con Vittorio Alberto Grubisi, questo argomento ricorre con altissima frequenza, dimostrando come Segantini fosse interessato a tenere sotto controllo l'immagine che veniva diffusa della propria produzione pittorica. Lo stesso pittore, infatti, è ben consapevole che una presentazione elegante avrebbe potuto avere influenze positive sulle vendite. Tant'è vero che qualche anno dopo, nel 1892, scriveva ad Alberto Grubisi, ormai rimasto suo unico mercante, ma su questo aspetto torneremo più avanti, cito dalla lettera, «Siccome per andare a Londra si passa da Parigi, tenterei la piazza di Parigi per la prima. Io terrei con me, in una busta di pelle fatta con molta serietà e giudizio, tutte le fotografie dei quadri che intendi esporre ed offrire, così pure dei pastelli e disegni. Anche se si presentasse un doppio nella cartella di pelle che parlai sopra, io farei una divisione, un detenere sempre separate le fotografie dei quadri da quelle dei pastelli. Dunque, le fotografie sono uno strumento di riproduzione, ma anche un veicolo di notorietà, e l'album, come abbiamo già visto nel caso precedente, è un piccolo monumento celebrativo di un percorso artistico. Brianza 1884, però, è anche il tentativo di creare un'opportunità commerciale autonoma rispetto alla vendita dei quadri. Trattando l'oggetto come un'opera a sé stante, con un suo particolare valore aggiunto. Anche in questo caso non esiste molta letteratura sulla diffusione e l'utilizzo dell'album come strumento promozionale per gli artisti, ma un interessante caso, che potrebbe essere un paragone inutile, riguarda la sede inglese della Galleria Wittill e il pittore James Whistler. Nel 1892, alla Galleria Wittill di Londra, si tenne una mostra sul pittore organizzata dal direttore della sede, David Thompson. Nella corrispondenza tra l'organizzatore e Whistler, si possono seguire le vicende legate alla realizzazione di un album fotografico con una selezione di opere pubblicato effettivamente l'anno successivo alla mostra, nel 1890-T, con il titolo Nocturne, Marins and Chevalet Pieces, noto anche come Whistler Album. Durante la mostra, Thompson sollecitava Whistler per lettera per sapere se fosse intenzionata a collaborare, perché la Galleria aveva già proposto l'idea a dei visitatori che sembravano interessati all'acquisto. Si discute nello scambio pistolare delle autorizzazioni dei proprietari per fotografare le opere, così come della necessità di usare soltanto le migliori stampe per ottenere un prodotto di grande qualità. La versione definitiva, con 24 ruoli di produzione fotografiche che si specificano essere stampe alla gelatina e all'argento, è responsabilità definitiva dell'editore inglese, tanto che Whistler, da Parigi, si rammarica di non aver visto l'effetto complessivo, ma, sicuro del buon esito della pubblicazione degli album, ritiene di poter piazzarne alcune copie anche in Francia, visto l'interesse già manifestato da alcuni artisti. Nello scambio pistolare tra gallerista e artista, è interessante notare, come emerga con chiarezza, che a tecniche di riproduzione differenti corrispondono a un valore commerciale differente. Le litografie, infatti, vengono realizzate per il catalogo commerciale, mentre le fotografie sono destinate all'album Whistler, un'iniziativa editoriale che segue un'esposizione retrospettiva e che sfrutta quindi la scelta di pubblicità ottenuta dal pittore in quell'occasione. Di questi stessi albi viene realizzata una sorta di edizione limitata. In alcune copie, infatti, le fotografie sono state firmate una ad una dal pittore, in modo leggibile e in un punto visibile, viene chiesto esplicitamente dalla galleria, e sono vendute ad un prezzo maggiore. La fotografia, quindi, è un bene di pregio, il cui valore è aumentato dall'autografo, ossia dall'intervento dell'artista su di essa. Questa digressione fuori dai territori di Grubi si ci permette di verificare come effettivamente le strategie e le ambizioni di Vittore fossero realmente aggiornate sui modelli dei grandi mercanti europei. Il confronto tra il caso dell'album Whistler Equilobrianza, 1884, mostra come entrambe le iniziative editoriali puntassero ad approfittare del già citato doppio mercato, opere e riproduzioni, nonché del circolo virtuoso da esso innescato, per cui l'aumento della notorietà corrispondeva a un aumento delle vendite delle opere. Nel 1891 i rapporti tra Vittore e il fratello Alberto si interromperò definitivamente, con le stromissioni di Vittore per vie legali dagli affari della galleria. Inizia così per lui un periodo di crisi totale, sia umana che professionale, durante il quale trovò conforto solo nella pittura. Vittore in realtà si era avvicinato già da adulto, ormai trent'anni, al disegno e alla pittura. Si trattava dell'epoca in cui si trovava in Olanda ed era diventato intimo dei pittori della Scuola di Paisaggio dell'Aia e di esponenti dei circoli artistici locali. Negli anni 90, dunque, Vittore si reinventò artista da totale autodidatta, ma con un'incredibile dedizione. Retirandosi in montagna tra Piemonte e Lombardia, la sua ragione di vita, ossia il rapporto diretto con gli artisti e la discussione del loro lavoro, venne soppiantato prima dalla scrittura sui temi di estetica e tecnica e poi dalla totale dedizione alla pittura. Nella sua produzione, che si concentra quasi tutta nell'ultimo decennio dell'Ottocento, elaborò una personale declinazione dei principi divisionisti. Prediligeva la rappresentazione della natura, ma rifuggendo i motivi pittoreschi. Cercava piuttosto momenti di bellezza, capace di evocare un sentimento di adesione panteista al paesaggio montano in cui era immerso. Negli anni da pittore, la fotografia assunse un nuovo ruolo e divenne uno strumento al servizio del disegno. Sono numerosi i casi documentati di questo metodo di lavoro. Uno di questi è la serie riconducibile alla Vandaia o Marzo Allierna, che ha inizio circa nel 1888. Nel fondo grubisi del Marte si conserva una fotografia di una donna intenta a lavare i panni. Dalla foto sono stati tratti due disegni a matita, due studi di composizione. Grubisi infine ne realizzò un acquerello, che riprende esattamente la scena della fotografia, ma cerca di restituire gli effetti di vibrazione luminosa rappresentati. La fotografia quindi viene usata come uno strumento analitico che ferma un momento e un ambice da rielaborare. È il ruolo di un appunto, niente di più di una traccia istantanea, sul quale Grubisi lavorerà con acribia per modellare gli effetti cromatico luminosi, che sono poi il vero soggetto del quadro. Negli ultimi anni del secolo Grubisi divenne progressivamente più riservato e dedicò tutte le energie mentali a rielaborare e rielaborare opere dipinte in precedenza, senza sostanzialmente produrre più nulla di nuovo. Durante questa fase di intensa riflessione su se stesso, che culminò nel 1904 in un gravissimo saurimento nervoso, ottenerò alcuni riconoscimenti per il proprio lavoro di pittore, esponendo la Biennale di Venezia nel 1897 e alle successive, e ottenne l'acquisto di alcune sue opere da parte della Galleria Civica di Venezia. In questi anni di meditazione sulla propria carriera, Grubisi prese alcune iniziative che paiono tese soprattutto a costruire una memoria tangibile e duratura della sua vicenda umana e artistica. Alla luce di questo si spiega l'ambiguo rapporto con il pittore rivornese Benvenuto, benvenuti, che da ammiratore prima divenne poi confidente eletto, custode della memoria e infine rete universale di vittore. È vero però che è proprio benvenuti che si deve la conservazione dell'archivio e degli innumerevoli materiali dati di Grubisi che recentemente sono stati studiati. Si è detto che nella sua attività di mercante Grubisi aveva sviluppato grande familiarità con la fotografia come strumento di divulgazione, ma va specificato che essa rivestiva in un'importante funzione anche di documentazione. Per fare un esempio, la galleria Grubisi ha conservato fino alla chiusura il catalogo delle negative di opere di Segantini che ammontava oltre 400 unità. Nell'ultima fase della sua vita, quando riteneva che non avrebbe più realizzato nessuna nuova opera, egli cominciò dunque una campagna di autodocumentazione sistematica, cercando e recuperando presso collezionisti amici quasi tutte le proprie opere per fotografarle. Il fondo fotografico di Grubisi a Rovereto, infatti, è composto da centinaia di pezzi, per la maggior parte le riproduzioni di opere di Vittore, spesso in numerose copie, su cartolina. Ciò si spiega se si immagina che Vittore avesse messo in atto per se stesso le medesime strategie che aveva usato per celebrare il valore e perpetuare la memoria di artisti amati e importanti nella propria vita. A partire dal 1910 le opere furono fotografate sistematicamente da professionisti. La maggior parte delle riprese furono realizzate da Rudolfo Zennini a Milano, ma compaiono anche i nomi di fotografie veneziani che avevano effettuato le riprese durante le giornali, così come raramente si trovano i nomi di alcuni studi fiorentini o torinesi. Non sembra scorretto quindi collocare in questo periodo il terzo e ultimo gruppo di albi fotografici, quelli costruiti a Rovereto, dedicati a Grubisi in persona. Si tratta di due volumi molto diversi tra loro. La prima copia è realizzata con un semplice album di cartoncino nero da disegno con pagine prestacuoco in formato A3. Si presenta in condizioni di conservazione drammatiche che ne rendono quasi impossibile la consultazione e si compone di 127 pagine numerate su cui sono riprodotte 170 opere. L'album, cosa molto interessante, è accompagnato da un dettagliato elenco manoscritto che sembra una bozza o una copia di lavoro con ogni probabilità di pugno di vittore in cui sono annotate la tecnica di realizzazione dell'opera, il titolo, il numero della pagina dell'album a cui è riprodotta, la proprietà del lavoro al tempo in cui è stata fotografata per un totale di 183 opere registrate. Il secondo esemplare, invece, è un album più voluminoso e rilegato in tela con una targhetta d'ottone con la scritta B. Grubisi. Le fotografie sono incollate su cartoncini neri. Sono presenti un totale di 239 opere numerate frequentemente con note relative alla proprietà e in aggiunta alle ultime pagine sono presenti sette riproduzioni in pericromia. Le numerose pagine vuote fanno sospettare che questa versione più elaborata e sofisticata sia stata però asciuta in sospeso. Sebbene anche in questo gruppo di albi non sia stato rispettato a un criterio cronologico ne si rappede un altro principio di ordinamento logico la bella copia diciamo così dell'album Grubisi fornisce degli spunti interessanti per riflettere sulla costruzione interna di questo album ossia la scelta e l'ordine delle immagini riprodotte. Dal 1897 in occasione della terza biennale veneziana Grubisi aveva preso a combinare alcuni quadri nati in momenti differenti esponendoli insieme con un unico titolo come se fossero dei politici. Anche questo rientrava nella sua idea di rielaborare opere vecchie di qualche anno. Così come i colori non erano mescolati sulla tavolozza così i dipinti venivano messi l'uno accanto all'altro per ottenere la massima luminosità possibile e il massimo effetto poetico. Non seguiva quindi un criterio tematico ma combinava i quadri come se fossero note che evocavano sentimenti diversi a seconda della posizione occupata dell'insegna della composizione. Specialmente in un momento successivo più avanti negli anni Grubisi conduceva questi esperimenti compositivi spesso solo con fotografie dal momento che non tutti i dipinti erano a sua disposizione. Il politico esposto per la prima volta alla Biennale del 97 intitolato Inverno in montagna cambia diverse volte fino a trovare una sistemazione definitiva nel 1911 definendosi in otto opere Notte lunare o chiaro di luna Pecore sullo scoglio Cinforia crepuscolare La sorgente A sera Tutto candore Mattino e La vallata Tutte opere realizzate tra il 1887 e il 1894 e il 1897 con alcuni ritocchi successivi Grubisi fece realizzare una ricostruzione fotografica di questo capolavoro personale e soprattutto la fece riprodurre in una innumerevole quantità di cartoline ancora conservate al Marta Rovereto Su uno sfondo nero i dipinti sono disposti in maniera piramidale e in bianco sono aggiunti in caratteri corsivi il titolo Inverno in montagna Poema Panteista in otto quadri e le date 1894-1911 Ogni quadro corrisponde una lettera e sul lato sinistro sono elencati i titoli di ciascun dipinto abbinati alla lettera In basso molto grande e per esteso campeggia la firma Vittore Grubisi De Dragon a suggerare la validità e l'importanza della raffigurazione Edi considerava questa versione di Inverno in montagna una sintesi della propria poetica tanto da scrivere nel testamento e lo cito All'amico Tosi Arturo pittore e dal maestro Arturo Toscanini deferisco la preghiera di aiutare i benvenuti nella realizzazione della mia idea che è donare ai musei le sue opere principali prendendosi qualche ricordo non capitale per i musei ma soprattutto avendo riguardo all'integrità dell'opera mia in otto quadri L'inverno in montagna Tornando quindi agli albi la seconda versione dell'album Rubisi quella più elaborata si apre proprio con gli otto quadri della serie dell'inverno in montagna riprodotti prima singolarmente e poi seduti dalla riproduzione della cartomina del politico non si tratta dell'ultimo caso in cui una fotografia riprende un insieme di opere presenti anche singolarmente proprio perché agli occhi di Rubisi probabilmente non si trattava di ripetizioni ma di variazioni sul tema che dovevano rappresentare le innumerevoli possibilità espressive della sua pittura in conclusione sembra chiaro visto il numero di ripetizioni che l'aspirazione di questi albi sia stata dare il profilo più completo possibile dell'arte di pittore Rubisi e sebbene non si possa essere sicuri che questa sequenza che vediamo sia frutto esclusivo della volontà di pittore in prima persona perché potrebbe esserci stato per esempio l'intervento di benvenuti possiamo dire con un buon margine di sicurezza che l'idea di raccogliere la storia creativa e i valori artistici di un pittore tra i due piatti di un album fotografico sia perfettamente coerente con quanto Vittorio Rubisi ha realizzato nella sua decennale carriera di mercante e appassionato d'arte e grazie per l'attenzione grazie grazie molto per essere stati con noi diciamo l'audio non era dei migliori forse la prossima volta faremo delle prove prima ma abbiamo ricevuto questo file solo stamane cioè praticamente poche ore fa quindi non siamo stati nemmeno troppo in grado però mi sembrava che da lì si sentisse meglio che da qui quindi insomma spero che e mi sembra che diciamo il dato interessante di questo intervento sia quello di spostare il campo del nostro sguardo dall'oggetto allo studio il laboratorio diciamo della promozione artistica in un contesto quale quello appunto tardottocentesco delle grandi capitali europee e quindi diciamo questo respiro che anche questo strumento che finora abbiamo visto ancorato più la riproduzione fotografica di particolari ambienti familiari o diciamo istituzionali ha avuto avendo raggiunto appunto questa propulsione che è quello della diffusione su larga scala delle opere di singoli artisti cioè delle piccole monografie in fondo si presentano come tali non so se c'è qualcuno che su questo tema voglia aggiungere qualcosa e sottolineare questioni non tanto sull'artista ma sul manufatto vero serena archivio sargentese san paolo volevo porre alla pleatea questa domanda proprio un po' perché questa osservazione dell'oggetto fotografico della dottoressa paolillo mi ha un po' ispirato e è un ambito di ricerca che sto cercando di approfondire se qualcuno di voi ha fatto studi o ha presente appunto approfondimenti sui realizzatori degli album ossia su chi proprio faceva la rilegatura decorava anche le copertine perché nell'ottocento spesso ci siamo trovati questi album bellissimi cioè la copertina era più bella forse del contenuto in alcuni casi oppure anche casi di riutilizzo di un album nato probabilmente per altre finalità presupponiamo per lettere quindi con delle tasche orizzontali utilizzato poi per inserire carte visite formato margherita e varie volevo sapere appunto se c'erano stati studi sui realizzatori sulle mode anche dell'epoca perché appunto questi oggetti li troviamo soprattutto nell'ottocento inizi novecento e poi vediamo quasi un disuso una decadenza di questi oggetti così pregiati e negli anni trenta come ha mostrato la stessa Paul Hillon che noi abbiamo questi album con questi cartoncini molto acidi che si strappano solo a vederli verdi e marroni dove lì diventa quasi più importante ecco l'accostamento delle immagini non tanto quanto la sua facciata esteriore niente spero che qualcuno possa rispondere grazie per la mia esperienza invito diciamo il resto dei relatori ma non soltanto intervenire nell'album che citavo stamane ho avuto la sensazione che fosse proprio di manifattura singola cioè che fosse commissionato dalla famiglia dalla nobile donna a chissà chi infatti a un rilegatore a una persona che lavorava la carta esattamente nelle dimensioni che voleva lei cioè che non fosse un prodotto standardizzato ma parliamo di una cosa 1880 1890 ecco Nicola ci chiedevamo se tu avevi avuto delle impressioni circa la manifattura degli album che hai potuto visionare cioè se hai rintracciato una continuità o delle timbrature che ci possano dire che effettivamente c'erano dei produttori proprio di quella cosa lì cioè della copertina degli album fotografici o se invece questa cosa non è emersa come delle costanti per cui sia possibile attribuire diciamo a determinati settori imprenditoriali la fattura di questi album delle ricorrenze no volevo dire credo di sì perché alcune cose non sono non sanno troppo di artigianalità cioè sono troppo per esempio ci sono dei lavori tessili molto con delle anche iscrizioni testuali che sono che si vede che sono tessute come dei tappeti che sono allo stesso livello ci sono dei lavori per esempio con i velluti che sono che non sembrano ecco essere dei dei lavori domestici o dei lavori e poi ci sono per esempio anche degli intarsi di legno che non mi sembrano delle cose troppo facili da realizzare però ti sono apparsi come in questo diciamo grande 550 diceva stamane Laura Mauro forse anche di più non vi è uniformità sono tutti un po' diversi sì forse la cosa più simile sono gli album Morpurgo sì che immaginiamo fatti forse da lui almeno alcuni per tenere dentro i propri materiali come se fossero di rischiare che quelli lì somigliano anche un po' quelli lì somigliano anche un po' a dei lavori più di legatoria saggistica hanno anche delle strutture anche il disegno delle coste l'iscrizione dei titoli invece altri hanno anche dei lavori più che sono anche per esempio ce n'è uno di velluto rosso che è diventato quasi rosa con un'iscrizione bianca molto morbido che sembra quasi una cosa pop di adesso quindi non so se qualcun altro ha delle notizie su questo professoressa prego grazie sono Marisa Dalai ho studiato molto il divisionismo e quindi ero particolarmente interessata a questa relazione mi spiace che sia stata trasmessa un po' così a singhiozzo e letta anche con una velocità supersonica per cui era molto difficile riuscire bene a catturare i messaggi allora ho avuto l'impressione guardando peraltro le poche immagini di album che poi sono state messe a corredo del testo che la copertina del primo album dedicato a Segantini quello dell'84 fosse direi quasi sicuramente del designer Bugatti perché era molto molto raffinata in cuoio con delle impressioni e con una come dire un sistema ornamentale che è tipico dei Bugatti dei fratelli Bugatti che poi disegneranno la prima fuori serie la famosa automobile Bugatti nei primi anni del novecento la famiglia Bugatti era legatissima ad amicizie a Segantini quindi mi sembra probabile che la copertina di questo album si debba attribuire a loro bisognerebbe studiarla meglio vederla da vicino ma ho dei fondati dubbi che si tratti proprio di un manufatto realizzato da uno dei Bugatti ecco questo volevo dire e poi un'altra osservazione eccola qua è lei e sembra cuoio e bronzo forse anche c'è un elemento circolare che potrebbe essere bronzo ecco anche l'uso di questi materiali tipico dei Bugatti e poi ecco un'altra osservazione volevo fare non si è capito bene da questa lettura ma forse non ho capito bene io quali fossero queste tecniche di riproduzione utilizzate cioè a un certo punto si è parlato di fotoincisioni le fotoincisioni in Italia si fanno a partire mi sembra dal 1883 non non prima e poi a un certo punto anche ho colto il termine tricromie allora questa è una cosa molto interessante se si tratta veramente di tricromie però a proposito dell'album di di Vittore cioè dell'ultimo album di cui si è detto nella relazione che forse è un pochino più tardo degli altri mi sembra di ricordare che è del 1910 allora sarebbe molto interessante capire in quel momento che uso si facesse delle tricromie non credo che fosse molto diffuso anche perché era molto costoso rispetto alle fotoincisioni ecco due schegge di osservazione grazie mille bene per così individuazione della manifattura del primo e quindi diciamo così di aver ristretto ulteriormente il circuito nel quale si muoveva l'artista per quanto riguarda la seconda osservazione effettivamente diciamo anche io avevo colto il riferimento alla tecnica alla prima e quella alla seconda invece mi era addirittura sfuggita però sì diciamo questo dato non c'è stato fornito con grande generosità e quindi è un po' difficile ora esattamente capire se diciamo ha fatto riferimento diciamo siamo veramente in un territorio ormai così ognuno ha ascoltato qualcosa non sono sì comunque sarebbero tutte questioni molto interessanti chiaramente essendo poi il tema un po' del nostro incontro fotografico cioè grafico e fotografico quindi diciamo così diciamo avere degli elementi un po' più dettagliati sulle tecniche di riproduzione di questo album avrebbe aiutato parecchio ecco segnaleremo alla dottoressa Paolillo forse di raffinare questo questo punto di grande interesse proprio per la diffusione diciamo del prodotto attraverso della produzione artistica attraverso appunto l'album e se vi sono altri interventi prego su questa questione della produzione degli album quella domanda che era stata posta così ma io credo che una fonte estremamente ricca di informazione siano gli annuari che vengono prodotti cioè che raccontano le indicazioni sulle attività fotografiche queste cose addirittura gli annuari commerciali più di tipo generale cioè delle città tra l'altro la biblioteca dell'ICCD credo che abbia un discreto numero di queste pubblicazioni solo che è una questione di grande pazienza cioè bisogna farsi passare una valanga di questi materiali e ci vuole pazienza cioè io ho visto ho fatto un piccolo lavoro dedicato proprio ai primi anni diciamo delle produzioni fotografiche e praticamente la mia fonte sono stati proprio annuari ma annuari anche cittadini cioè nel senso che esaminavo un territorio e lì andavo a spulciare i nomi delle persone che svolgevano attività legate alla fotografia è interessante che gli annuari normalmente raccolgono anche delle forme di pubblicità per cui nelle forme di pubblicità si danno delle indicazioni precise e spesso e volentieri si trovano che i grossi studi pubblicizzano la disponibilità di album per raccogliere i materiali che significa che loro attingevano o a qualche piccolo produttore o comunque a produzioni più nobili cioè dico più articolate tipo quelle che venivano indicate prima c'è un fatto reale che moltissimi album dell'Ottocento di quelli che io ho consultato sono le copertine sono fortemente personalizzate il che significa che chi acquistava quell'album o faceva fare ex novo un intervento nel senso che magari c'è l'inserimento di qualche placca con l'indicazione con le cifre dei proprietari e di queste cose e quindi o questo veniva fatto realizzare specificamente su un album che era stato acquistato oppure che si commissionava ad un legatore una persona che lavorava sul cuoio questo tipo di produzione cosa che mi sembra in certi casi forse anche la più probabile rispetto proprio magari a un certo tipo di produzione non ultimo tra le fonti ci sono un po' le grosse esposizioni cioè se non ricordo male tipo facendo passare i materiali dell'esposizione del 6 a Milano nella presentazione delle diverse attività le arti minori e queste cose ogni tanto si trova la ditta commerciale l'indicazione del produttore commerciale che presentava una serie di prodotti che erano spesso legati a queste cose cioè tipo proprio album materiali per la raccolta di cose è un lavoro che non è mai stato fatto cioè almeno a me non risulta che sarebbe estremamente interessante da a farsi cioè nel senso di incominciare a raccogliere almeno queste informazioni e costruire una sorta di piccola banca dati incrociando poi esperienze molto diverse non è l'unico aspetto della fotografia che andrebbe indagata in questo senso butto lì non c'entra con i discorsi che stiamo facendo in questi giorni ma c'è tutto un discorso sui fondali nessuno ha mai affrontato che io sappia cioè gli unici che hanno affrontato un po' seriamente i fondali è stata una mostra fatta da Tene ma ormai vent'anni fa dedicata alla produzione di alcuni fotografi locali ecco il discorso dei fondali è un discorso interessantissimo spesso e volentieri i fondali se condotto questo lavoro fosse stato condotto lo si condurrà cioè su aree geografiche significative si può addirittura finire con l'identificare i luoghi di attività dei fotografi cioè io sto pensando alle fotografie dell'emigrazione e ho visto alcuni lavori fatti di recente in cui si finisce col collocare geograficamente il produttore delle immagini proprio sulla base del fondale della pavimentazione dello studio magari il passepartout dell'immagine non reca nessuna indicazione ma quell'immagine che tutti avevano detto no è stata fatta da un fotografo di New York poi si scopriva che era stata fatta magari a Washington perché abbiamo una serie di immagini con quel fondale con quel pavimento con queste cose è purtroppo un altro tipo di lavoro che a mio avviso è importante per la conoscenza della produzione della fotografia però ci vuole qualcuno che si che si muova su questo terreno grazie professore su questa questione del fondale diciamo abbiamo anche qui in istituto ci sono state occasioni per riflettere e sì nell'occasione di una mostra in cui sono stati esposti la collezione di ferrotipie siamo riusciti a ricostruire lo studio la produzione di uno studio attraverso questo doppio elemento fondale e pavimentazione volevo aggiungere qualcosa grazie io ho provato a fare questo studio a vedere le legature per esempio il primo album che avevo fatto vedere di Mrs. Burkbeck ha anche l'etichetta del rilegatore che faceva l'album e l'album la copertina è standard album e poi nella prima pagina c'è uno stampato che dice Miss Anna Burkbeck con la data su cui lei poi ha aggiunto una cosa visiva ma quando si comincia a disfondere l'attività in un certo senso gli album da come li ho visti si dividono un po' in due categorie quelli che sono più stile libro e quelli sono cioè con una copertina semplice che semplicemente dice album o anche niente o un nome del collezionista che erano molto facili da trovare perché nell'ottocento tanti libri venivano comunque o comprati a fascicoli o comunque rilegati da da quelli per avere poi la biblioteca bella con tutti i libri rilegati in un certo modo quindi la rilegatoria era un business molto comune quindi era facile farsi fare un album bianco con il nome di una persona e invece poi ci sono gli altri tipi di libro che sono gli album questi con le copertine tipo queste che non andavano messi nei ripiani nelle biblioteche ma venivano tenuti su sulle tavole perché sennò chiaramente le copertine si sarebbero e lì erano molto più vendute se non altro a Londra nei negozi che vendevano oggetti casalinghi addirittura i gioiellieri per esempio a Londra Aspreys che vende argenteria ancora adesso oggetti di lusso eccetera vendeva questi album con copertine molto lavorate proprio a metallo ma anche abbastanza preziose quindi allora diventano più come diciamo oggetti casalinghi piuttosto che libri ma è difficilissimo perché sono talmente tanta varietà di pratiche che quando nasce ad esempio con le grandi esposizioni ad esempio le aziende espongono naturalmente degli album sulle loro attività produttive esatto delle cose monumentali che hanno chiaramente delle copertine che sono state fatte copertine che sono realizzate ad hoc cioè perché è impossibile che possa comparire sulla cioè che così un produttore generico inserisca una serie di informazioni su quella copertina però dico chiaro che se la Fiat oppure l'Alfa Romeo fa realizzare l'album aziendale le cartiere Von Willer la banca Pinco Pallino fa queste cose e fa realizzare questi volumi che sono monumentali poi perché sono delle cose estremamente e quello è così adesso non si riesce a definire le dimensioni reali di quell'album però credo che non sia di piccole dimensioni ma sicuramente è un prodotto è un prodotto estremamente raffinato cioè sono fatti su committenza su committenza precisa magari a partire da da un qualche cosa che era elaborato però parzialmente cioè credo che questo sia sia inevitabile è è un modo così cioè proprio cioè si tratterebbe di studiare proprio anche questo genere di confezioni ripeto cioè a mio avviso sarebbe molto molto interessante farlo è tra l'altro un qualche cosa che viene avanti molto nel tempo perché adesso mi ritornavo parlando di queste cose cioè mi ritornavo un po' le cose che si diceva che è stata detta stamattina la relazione di Day cioè degli album così ma io ricordo che ad esempio negli anni negli anni 30 in Italia cioè a me è capitato ho studiato parecchio dei materiali quindi anche degli album che si riferivano alla documentazione della guerra 35-36 in Colonia c'è un numero elevatissimo di persone che si fanno gli album con la stoffa della divisa cioè la copertina viene utilizzata per gestire la confezione esterna addirittura nell'album si inserivano degli elementi di oggetti veri e propri cioè le mostrine le cose nel senso che veniva articolato il piccolo ramoscello raccolto sull'albero esotico inserito nell'album così in questa miscellanea di materiali le fotografie queste cose immagini ritagliate da libri ricordo uno che questo lavorava per le officine grafiche di Agostini che si è fatto tutta la sua celebrazione di partecipazione alla guerra d'Etiopia e ci ha inserito poi delle bellissime tavole che di Agostini aveva prodotto per su una committenza ministeriale del mega volume di rappresentanza sulle colonie lui si era ritagliato gli acquerelli con gli ascheri con queste cose i paesaggi esotici e ci aveva fatto queste costruzioni cioè molto molto articolate cioè diventa proprio una qualche cosa veramente molto ed è una tradizione che viene in avanti cioè proprio di sicuro arriva si arriva fino agli anni 30 agli anni 40 il fascismo stesso è committente di opere che hanno queste mega legature cioè la rivista illustratica del popolo d'Italia alla fine del fine 36 inizio 37 fa un volume celebrativo nel formato un po' più grosso della rivista ma questo volume pesa 20 chili cioè è una cosa è una cosa un'opera da mettere da esibire così tra l'altro addirittura cioè erano opere che erano realizzate addirittura con stampe con carte di tipo diverso perché poi c'era la sponsorizzazione magari delle carriere per cui ognuno metteva a disposizione questi per cui diventano anche dei prodotti estremamente interessanti da leggersi cioè nel senso che questi sono album a stampa perché chiaramente erano dei prodotti dei prodotti a stampa a stampa tipografica tradizionale che però hanno una cioè un po' queste cose cioè si gioca un po' a fare le operazioni futuristiche alla De Pero queste cose qui di cui di creare questi prodotti curiosissimi insomma le cose sono veramente moltissime grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.